bentornati nel mio canale oggi facciamo insieme la torta margherita senza burro leggera e soffice ci occorrono 4 tuorli un pizzico di bicarbonato 120 grammi di zucchero e lavoriamo per 10 minuti infine aggiungiamo 30 ml di olio di semi di girasole poi aggiungiamo 70 grammi di fecola di patate setacciata 200 grammi di farina 00 sempre setacciata e 100 ml di latte ed infine una bustina di lievito sempre setacciata per ultimo aggiungiamo gli albumi montati a neve delicatamente dall'alto verso il basso mettiamo la torta in uno stampo da 24 cm imburrato e infarinato e andiamo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi statico per 40 minuti mi raccomando fate sempre la prova a stecchino potete utilizzare questa morbidissima torta margherita come base delle vostre torte di compleanno se proprio il pan di spagna non vi riesce lasciami un like continuo a seguirmi e iscriviti al canale ciao 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 ciao